La preparazione di una persona al matrimonio inizia sin da quando nasce, vedendo come riceve amore, quali sono i rapporti con i genitori, quelli in famiglia, come impara sin da piccolo, da piccola, ad essere sposo e padre o sposa e madre. Pertanto è molto importante che in questa preparazione venga vissuta considerando il prima. Pertanto è molto importante che questa preparazione venga vissuta considerando il prima. Capisco che esistono situazioni difficili, che ci sono ferite che si ricevono nella vita e che si arriva al matrimonio portando ciò che si è vissuto e ciò che si è. È quindi anche molto importante generare spazi in cui si sanino questi rapporti, ovvero che chi pensa di sposarsi si chieda com'è la sua storia, cosa ha in sé che può provocare difficoltà in un matrimonio e faccia quello che si definisce un esame di coscienza, ovvero riveda cosa ha in sé, si riconcilie con la propria storia per far così in modo da offrire il meglio. In tal modo, arrivando ad incontrare la persona con cui andrà a vivere, posso offrirle il meglio di sé e lei possa anche fare altrettanto.